Musica Conclusi i lavori di ampliamento e sistemazione della Stata Provinciale 51 e nella mattinata di martedì 30 aprile è stata inaugurata la riapertura. La Provinciale 51 che collega l'area industriale, la Provinciale 53 e la Provinciale 222 è stato oggetto di intervento a seguito di numerosi incidenti gravi causati dalla risettezza della carreggiata e dal degrado del manto stradale. Grazie agli sforzi del Comune di Uzzegni è stato possibile ottenere i fondi necessari per la realizzazione di questa importante opera. Infatti il Comune ha partecipato al bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale dei Comuni della città metropolitana di Torino, risultando tra gli enti vincitori nel graduatore finale e riuscendo così a finanziare l'opera. Il costo totale ammonta a 355.000 euro con un contributo di oltre 74.000 euro da parte del Comune di Uzzegna, un investimento che mira a garantire la sicurezza stradale e a migliorare la viabilità per automobilisti e veicoli pesanti, facilitando collegamento tra Uzzegna, l'area industriale e i comuni circostanti. Grazie a tutti!